Siete pronti per Patronix? Sì! L'ultimo pezzo per voi, basta, ricordiamo Zion Station, questa è la Indoor Edition, ma non dimenticate per il prossimo anno Zion Station Outdoor Festival di Angulaga, Ferrana, fine giugno, con il meglio della scena internazionale, sì, big up Ferrara, sì, L'ultimo pezzo per voi, basta, ricordiamo! Siete pronti per la scena internazionale, Siete pronti per la scena internazionale, Siete pronti per noi, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti